Anche questa parte di strada del litorale di Tonnarella sarà sistemata e naturalmente dovremo spendere una bella cifra, quasi 300 mila euro, però è anche la prosecuzione di un lavoro che abbiamo iniziato già da qualche anno. Di fatto è la prosecuzione di quel lavoro di sistemazione della strada più a monte verso Capofeto. I lavori inizieranno fra qualche giorno, penso che entro 10 giorni già potremo vedere i primi risultati. Sarà una impresa spero locale perché tanti lavori che stiamo facendo nella nostra città purtroppo con tutto il rispetto vede la vittoria nella gara di ditte non della nostra zona. E' questo naturalmente un po' mirattrista. Da una parte sono lieto perché si sistemano parti degradate del nostro territorio, da un'altra parte esprimo il rammarico nel vedere che le nostre ditte non partecipano con grande competitività a questo sistema di appalti che il nostro comune in maniera trasparente e legale ha messo in moto. Comunque parliamo della nostra Tonnarella che torna a vivere, che sarà sempre più bella perché a parte tutto quello che stiamo facendo abbiamo già messo in moto un altro grande progetto. Nascerà una piazza, sarà dotata tutta la zona di servizi anche importanti e sarà ripristinata l'illuminazione. Abbiamo iniziato piano piano e penso che già dal prossimo anno Tonnarella sarà già un'altra cosa.